bene incominciamo buongiorno a tutti buon pomeriggio buonasera grazie per essere qui con noi oggi da tutte le parti del mondo sempre un piacere avervi qui insieme a noi abbiamo ricevuto molte molte registrazioni e questi numeri stanno ancora crescendo ed è davvero un segno significa che questa formazione è molto importante per noi vivere i voti sulla base dei segni dei tempi è davvero qualcosa che ci riguarda tutti è una chiamata che viene rivolta la vita religiosa in un mondo in costante cambiamento a così tanta velocità cos'è essenziale cosa ci rimane cosa deve essere affrontato e cosa invece dobbiamo cambiare credo che tutti noi ci poniamo queste domande che riguardino questioni culturali che riguardano anche i voti ma anche con un approccio più globale internazionale che può modificarsi ed evolvere senza tuttavia perdere la nostra identità e continuando a vivere in una fedeltà creativa alla chiamata che abbiamo ricevuto per questo abbiamo sviluppato tante domande povertà obbedienza castità questi sono tutti punti che noi conosciamo bene ma dio è sempre lo stesso noi evolviamo ma dio ci ama sempre e i voti ci danno la possibilità di consentire a dio di essere l'unico nella nostra vita a riempirci di amore di un amore costante che è quello che dio nutre in nostri riguardi questa è la nostra chiamata quindi vorrei presentarvi oggi suorinigo che ha gentilmente accettato di essere qui con noi sono sicura che qualcuno di voi già la conoscerà molto bene mentre per altri sarà la prima volta che la incontrate suorinigo appartiene alla congregazione di sant'anna viene dall'india meridionale ed è un insegnante una formatrice e è stata anche segretaria esecutiva della sua comunità e a seguire è stata superiore a generale per due mandati quindi come vedete ha molta esperienza all'interno della vita consacrata e la sua esperienza è stata potenziata dalla sua partecipazione nel 1994 al sinodo episcopale di Roma che ha approfondito la realtà della vita consacrata che sono sicura tutti noi conosciamo e abbiamo letto il documento finale scritto da papà giovanni paolo secondo che è davvero un classico nel suo genere ed è molto importante per la nostra identità e spiritualità perciò dopo questa partecipazione al sinodo suorinigo ha ricevuto la richiesta di parlare aiutare tante congregazioni non solo in india in india ma anche in altri paesi lei lo ha fatto ha lavorato con sacerdoti seminaristi laici in tutto il mondo e i temi che la riguardano principalmente sono gli strumenti dati alle donne nella vita religiosa ha lavorato per la formazione dei religiosi e nel ministero delle carcere oggi ci racconterà molto della sua formazione per quanto riguarda il ruolo delle donne nella bibbia potremmo aggiungere molto suorinigo ha pubblicato anche un libro ed è qui con noi oggi e credo che però questa sia la cosa più importante per noi perciò suorinigo grazie mille per essere qui insieme a noi vediamo se riesco a metterti in evidenza così che tutti ti possano vedere e a questo punto ti passo la parola grazie mille paola per questa bellissima presentazione dato che siamo molto vicini al vaticano probabilmente ricorderete sì il mio nome ma grazie davvero per avermi invitata a partecipare oggi pensando a questo incontro così universale in cui ci rivolgiamo a un gruppo io voglio intanto presentarmi a voi con molta umiltà con sì le mie conoscenze con la mia esperienza ma soprattutto pensando ai segni dei tempi qualcuno di voi probabilmente mi conoscerà e sono molto grata di essere qui con voi sono molto grata alla uesg e spero che tutto ciò che dio mi ispirerà potrò condividerlo con voi una volta ho sentito in un seminario dire che sono tre i peccati che religiosi commettono il primo primo crimine per così dire organizzare incontri su incontri su incontri su incontri e così via si organizzano tantissimi tantissimi incontri secondo peccato partecipare a incontri su incontri su incontri su incontri terzo più grande peccato dopo aver partecipato a tutti questi incontri non facciamo niente questo è il peccato più grande sì la mia lingua è molto semplice le mie idee sono ugualmente molto semplici i miei pensieri sono molto semplici il mio modo di comunicare vuole essere semplice perché? perché sto proclamando un semplice messaggio di un semplice uomo questo semplice uomo è Gesù il messaggio semplice è quello di amore indipendentemente dalla cultura a cui apparteniamo indipendentemente dai nostri tempi la Bibbia invia messaggi di amore definendolo come una realtà costante e oggi non ci sono differenze indipendentemente dai paesi da cui ci connettiamo dalle lingue o dal genere a cui apparteniamo l'amore è una realtà costante solo l'amore l'amore ci permette di superare i nostri fallimenti indipendentemente dagli incontri a cui partecipiamo solo amore come dice Giovanni nel Vangelo 13,35 solo tramite amore sarete miei discepoli dobbiamo mettere amore in tutto ciò che facciamo tutto diventa spiritualità la spiritualità è molto semplice noi non diciamo vado in ufficio a lavorare no, voi non andate a lavorare di fatto cambiate il vocabolario che utilizzate io vado in ufficio per servire a quel punto non potrete dire sto lavorando se diciamo stiamo lavorando ci stanchiamo perdiamo energia se invece diciamo vado a servire potrete ricevere nuova energia vado in prigione non per lavorare ci sono tanti lavoratori lì no, io vado in prigione a servire loro sono le persone che incontro lì sono i miei benefattori le mie consorelle non sono nella mia provincia o congregazione a meno che io non me ne prenda cura cosa facciamo noi in quanto leader perché i nostri membri siano i nostri benefattori loro ci evangelizzano non sono delle interruzioni nel flusso del nostro lavoro sono i nostri evangelizzatori senza di me questa catena non potrebbe continuare a replicarsi ma senza di loro la mia vocazione perde di significato infatti sono loro a dare significato alla mia vocazione con amore l'amore è il valore principale non solo per i religiosi ma per tutti i cristiani tutti gli esseri umani Pietro ha ricevuto la chiamata a accogliere tre voti tutti e tre i voti riguardano unicamente l'amore tu mi ami di nuovo tu mi ami tre volte mi ami Gesù non chiede mai a Pietro hai l'esperienza di essere leader oppure hai le lauree hai la formazione le qualifiche giuste per essere un leader hai questi talenti queste abilità nulla se invece abbiamo amore allora siamo le persone giuste per essere leader solo coloro che hanno abbastanza amore nel proprio cuore possono essere leader passate in rassegna la vostra vita io sono una persona piena di amore? su questa base chiediamo allora la grazia di Dio adesso condividerò lo schermo osservare con occhi nuovi i voti iniziamo allora con una preghiera con il nostro valore principale di amore ricordando che solo coloro che hanno abbastanza amore nel proprio cuore possono diventare religiosi e possono diventare leader chiediamo allora le benedizioni del Signore preghiamo potete seguirmi in silenzio pregando nel vostro cuore leggendo dallo schermo che ci sia pace sulla terra che ci sia pace nel cielo che ci sia pace nel mondo che ci sia pace nell'acqua che ci sia pace nei medicinali che ci sia pace nelle piante che ci sia pace nell'universo e oltre che ci sia pace nella nostra chiesa che ci sia pace nelle nostre famiglie e comunità infine che ci sia pace in me e in voi pace 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 i tre consigli evangelici una volta un ragazzino voleva diventare un religioso è andato allora al seminario ha parlato con il rettore e ha espresso il proprio desiderio di diventare sacerdote il rettore lo ha guardato e gli ha detto mio caro ragazzo se davvero vuoi diventare sacerdote dovrai prendere tre voti ed è molto difficile il ragazzo era però molto intelligente e ha chiesto al rettore padre tre voti mi può spiegare almeno uno di questi voti mi faccia vedere mi spieghi allora potrò decidere se diventare sacerdote mi può spiegare almeno uno di questi tre voti e allora il padre ha detto partiamo dal voto di povertà si chiama povertà radicale wow povertà radicale padre sì radicale e che significa padre significa che devi vivere abbandonando tutto ciò che possiedi e dopo essere entrato nella casa di formazione ti verrà data però una bicicletta per poter andare a visitare la tua famiglia per poterla andare a trovare dopo aver preso i voti se sei un sacerdote ti verrà data un'altra bicicletta e una volta che invece diventerai un rettore un preside o un parroco ti verrà data addirittura un'automobile il sacerdote e il ragazzo prima che il padre finse di parlare batte le mani e disse beh padre se il voto di povertà è così bello e allora quello del celibato come sarà sì il modo in cui viviamo i nostri voti e il modo in cui professiamo la nostra vita confonde spesso i giovani non comprendono bene di questi tratti Gesù ha preso tre voti ed è questa la base qual è allora la nostra base la nostra base sono dei voti di amore perché ha amato ha consentito agli altri di amare ha preso il voto di obbedienza obbedienza fino alla morte farò ciò che il padre mi dirà di fare perché io lo amo ha scelto di condurre una vita di castità perché soprattutto io amo il mio padre perché tu mi ami e perciò io ti amo per questo motivo prendo il voto di celibato e castità inoltre voglio rimanere semplice sapete perché perché allora sarò più libero di servire il mio popolo il tuo popolo tutti e tre questi voti comprendono la base dell'accettazione di Gesù di questi voti per l'amore per il padre e per il popolo lui ha vissuto in questo modo così di essere libero da alcuni obblighi legati alla vita ordinaria così che potesse concentrare il suo tempo e le sue energie sull'amare Dio e portare questo amore a tutte le persone la base di riferimento è noi amiamo Dio e amiamo il popolo di Dio e per questo motivo siamo liberi l'amore alcuni dicono ci lega ma sanno che invece l'amore ci libera questi voti di amore ci rendono liberi tanto da poterci impegnare completamente nell'amare Dio e amare di conseguenza il suo popolo per noi religiosi i consigli evangelici sono pensati per liberarci non pensate di prendere un onere con questi voti prendo questi voti accetto questi voti e mi lego non è così ci liberano da alcuni attaccamenti e da alcuni ostacoli noi dovremmo essere liberi e disponibili nei riguardi di tutti in qualsiasi momento io sono stata invitata a far parte di una discussione di gruppo all'interno di una scuola e ho incontrato una donna e ho lavorato anche con un padre religioso lì e ci è stato chiesto di parlare per 5 minuti della formazione scolastica e la donna la laica accanto a me ha parlato con molta forza sorelle padri per tutta la vostra giornata voi vi dedicate solo al lavoro e non potete vivere con libertà perciò perché non cambiate i vostri orari e non vi rendete disponibili questo è il punto questa discussione è stata molto interessante e una volta finita siamo andati al refettorio per prendere una tazza di tè il rettore il direttore però è stato molto si nervosi molto nei confronti di questa donna del suo discorso dicendo che noi abbiamo bisogno di tempo per il lavoro personale del riposo anche noi siamo esseri umani che risposta è arrivata da questa donna sapete cosa gli ha detto mio caro preside ascolti mio marito è un dottore e spesso riceve chiamate anche di notte mio marito quando è così si alza e va a salvare il suo paziente quindi anche nel bel mezzo della notte io magari non posso alzarmi e correre e correre in case di emergenza ma se mio marito non lo facesse perderebbe il paziente perciò miei cari fratelli e sorelle ci sono due gruppi di persone che per tutto il tempo 24 ore su 24 sono disponibili un gruppo è quello a cui appartengono i medici e il secondo gruppo è quello a cui appartengono i religiosi con queste persone ci sono dei voti che li liberano e li rendono disponibili non possiamo dire no non sono disponibile se questa persona in questo momento ha necessità due gruppi di persone che sono disponibili 24 ore su 24 ancora una volta un gruppo sono i medici e l'altro i religiosi io non ho il mio volere il mio modo di fare le cose io sono libera volontariamente scelgo di rimanere celibe volontariamente non ci sono pressioni io normalmente porto le novizie al nostro villaggio per il loro programma e durante la messa dico al sacerdote padre io predicherò per loro perché vivono nel nostro villaggio perché spesso le persone del villaggio non sono felici che le nostre suore stiano lì e che non si sposino mi è stato allora chiesto perché non consente loro di farle sposare beh padre io allora vorrei proprio spiegarlo anzi lo spieghi anche lei io dico alle persone miei cari amici queste ragazze potrebbero facilmente trovare un marito sono istruite hanno denaro e gli uomini desiderano sposarle ma ricordate loro hanno scelto di rimanere celibi se tutti si sposassero chi potrebbe accettare questa formazione di tre mesi come si potrebbe iniziare a predicare a pregare insieme a voi come sarebbe possibile prendersi cura delle famiglie bisognose se tutte queste ragazze si sposassero abbandonassero il villaggio sono più libere si rendono più libere e disponibile così che qualunque necessità in qualunque momento saranno disponibili per aiutare scelgono di rimanere celibi e di questo parleremo ancora quando parleremo del voto del celibato io non ho nessuno che mi appartiene e sono più libera di amare coloro che non sono amati e coloro che sono respinti ho la libertà anche di donare la mia vita ecco qui questo è il punto il un padre una volta ha partecipato a una manifestazione per la libertà dei religiosi il padre e alcuni di questi religiosi si sono uniti ai laici e si sono rivolti al governo per chiedere maggiori diritti e si trovavano proprio all'inizio di questa manifestazione e la polizia istigata dal governo è arrivata e ha cominciato a picchiare i manifestanti innanzitutto il sacerdote il sacerdote è stato duramente picchiato è caduto a terra è stato ferito e sapete cosa ha detto oggi comprendo il significato del mio lavoro del mio voto di celibato se non se io non fossi stato in prima linea avrei non avrei potuto proteggere le persone che si trovavano dietro di me che sarebbero state picchiate sono stato picchiato io se fossi stato ucciso nessun altro si sarebbe dovuto offrire allora io sono più libero di donare la mia vita ecco che allora il voto di celibato dà significato solamente in termini di libertà in prontezza al dare la nostra vita io non ho bisogno di preservare la mia vita perché non posseggo nulla sapete che il vescovo romero in india anche altri padri sono arrivati a dare la loro vita dicendo va bene uccidetemi pure ma questa è la libertà che mi dà il voto di celibato questa è la libertà che mi dà significato il voto di povertà io non ho bisogno di accumulare non ho bisogno di risparmiare nulla ho solamente ciò di cui ho bisogno non mi serve nessuno perciò i voti ci liberano da tutti gli ostacoli e spero che questo sia chiaro è nella libertà e nell'amore che i voti ci danno significato il nostro la nostra è una vita di testimonianza contro culturale oggi le persone vogliono fare ciò che vogliono persino i bambini non vogliono ascoltare gli altri e rifiutano persino di dare la mano agli adulti e rifiutano di seguire le loro indicazioni se i genitori dicono loro di no loro si rifiutano fare ciò che si vuole è la moda di oggi ma in questo modo non mostriamo ai bambini un buon esempio i bambini spesso arrivano a guardare i religiosi non fanno ciò che vogliono ma sono comunque liberi e questo si riverbera anche nell'ambito del matrimonio perché si dice guardate i religiosi non sono sposati ma quanto sono felici e anche per questo accumulare una proprietà accumulare denaro due auto sempre più case è questo il modo in cui siamo formati quando ci guardano vedono in noi religiosi che non abbiamo proprietà ma che siamo estremamente felici nella vostra felicità nel vostro lavoro religioso nel vostro amore i voti testimoniano un approccio contro culturale quando invece c'è desiderio di accumulare noi rifiutiamo questo approccio e per questo alcune persone del villaggio mi hanno detto una volta noi abbiamo bisogno di questo approccio abbiamo bisogno di una vita più libera perché anche i bambini potremmo insegnare questi principi i tre voti i tre consigli evangelici vi spiegherò tutti e tre i voti il primo l'evoluzione storica dei voti come si sono evoluti a livello storico qual è la base biblica di ciascuno di questi voti alla luce del concilio vaticano secondo rispetto alla sinodalità quali sono le sfide oggi alcuni consigli pratici per ciascuno di questi voti infine domande per la vostra riflessione tutti e tre i voti verranno trattati pian piano partiamo allora dal primo punto se tutto va bene andrei avanti sì sì perfetto va benissimo anche il ritmo va bene ricordiamo alle sorelle che vi ho messo in chat la traduzione delle presentazioni e le varie lingue quindi le potrete trovare sulla chat grazie dunque le origini dei voti evoluzione storica nei primi tre secoli di storia non ci sono stati voti solo i cristiani si riunivano e portavano avanti una vita religiosa comunitaria un po' come facciamo oggi e condividevano tutto con tutti con gioia guardando a queste persone gli altri dicevano guardate quanto sono amorevoli questi cristiani quindi non sentivano mai la necessità di prendere dei voti nel quarto secolo è stata presa una posizione precisa nei riguardi della missione abbiamo preso posizione per fare qualcosa per la missione nel quinto e nel sesto secolo hanno compiuto una promessa qual è questa promessa promettiamo di fare qualcosa per risolvere questi problemi facciamo una promessa non un voto solo una promessa a seguire nel settimo secolo ricordate settimo secolo un singolo voto è stato creato ed era quello di obbedienza era obbedienza non ai singoli ma obbedienza alla missione la libertà è molto cara agli esseri umani in prigione nella prigione nella quale lavoro daremmo anzi queste persone darebbero tutto ma ciò di cui è necessario è la libertà gli esseri umani hanno bisogno di libertà non c'è libertà in alcuni settori è questo che penso gli esseri umani per quanto siano poveri se sono liberi hanno tutto ciò di cui hanno bisogno la libertà è molto cara a noi e questi voti ci liberano dall'attaccarci al nostro volere ai nostri desideri a tutto ciò che desideriamo io invece affido il mio volere a dio con gioia perché il volere di dio è migliore del mio e io lo comprendo quindi con gioia abbandono il mio volere non con dolore non con sofferenza io affido il mio volere a dio perché so che il suo volere è sempre migliore del mio il voto di obbedienza solo il voto di obbedienza è stato creato nel settimo secolo evoluzione storica che tipo di necessità c'era di questo voto perché è stato creato solo questo tra l'altro capite che c'è chiaramente una base storica c'era stata infatti una crisi c'erano stati problemi e questo ha portato all'evoluzione di questo voto le persone si sentivano ferite si sentivano ammalate tante donne erano vedove tanti bambini rimansero orfani perciò si viveva una crisi reale Dio era sofferente di fronte a questa crisi ci sono sempre crisi ma queste erano crisi profondamente vicine a Dio perché Dio ascoltò il grido sofferente di queste persone Dio non è un Dio passivo è attivo arriva e libera il suo popolo Dio non vuole creare schiavitù laddove c'è schiavitù non c'è Dio perciò quando le persone iniziarono a sperimentare la presenza di Dio si unirono e presero questa decisione in gruppo e venne sviluppata una risposta creativa alla missione con creatività sulla base delle necessità del momento quali erano queste necessità quali erano le risposte necessarie si arrivò infine a sviluppare una risposta collettiva di missione missione per coordinare questa missione venne scelto un leader all'interno di questo gruppo un leader però non ha diritto di prendere alcuna decisione era semplicemente un servizio è questo che un leader deve fare ed è qualcosa che spesso si vede anche nei capitoli generali o provinciali noi ci riuniamo prendiamo decisioni tutti insieme e leggiamo un leader un leader però non ha diritto di prendere decisioni autonome il leader deve solo mettere in pratica le decisioni prese dal gruppo quindi essere un leader significa essere a servizio solo a servizio l'obbedienza allora non era pensata per essere diretta a un individuo ma il punto centrale era la missione io rispondo alla missione come gruppo collettivo ma tutti insieme però si va a creare confusione quindi essere un leader significa chiedere di dare indicazioni su cosa fare per la missione i leader però non prendono decisioni autonome ma ascoltano le coscienze ascoltano dio e questo significa che noi dobbiamo obbedienza alla coscienza per questo siamo leader alla missione mi seguite sì spero obbedienza non a un singolo ma per la missione la missione è il punto centrale per una missione a cui rispondiamo in maniera consapevole è stato detto dal professor John Kenneth un economo famosissimo di Harvard qualcosa di molto interessante lui era come vi dicevo un economo non un consulente finanziario ma una persona di formazione statunitense e un giorno scrive nella sua autobiografia ha detto alla sua governante sono tanto stanco mi prendo un po' di riposo se arriva qualche telefonata la gestisci tu e andò a dormire qualche tempo dopo arrivò una telefonata e venne venne richiesto passatemi Kenneth sono Lyndon Johnson la governante rispose mi dispiace signor presidente mi ha dato istruzioni di non disturbarlo bene e allora però sveglialo io sono il presidente il presidente ti parla gli voglio parlare e la ragazza rispose no signor presidente io lavoro per lui non per lei che risposta meravigliosa al presidente degli stati uniti io lavoro per lui non per lei e quella sera Kenneth chiamò il presidente per scusarsi e il presidente invece si fece una bella risata e disse di a quella ragazza che vorrei assumerla qui alla casa bianca questo è l'impegno di cui ho bisogno mie care sorelle noi ci impegniamo ad ascoltare il signore a fare il suo volere nella nostra missione indipendentemente dai tutti i problemi le mie missioni le mie idee il mio volere non sono più primari ma non ci devono portare a dimenticare la nostra missione una donna come Emily Gloria è stata invitata alla casa bianca perché avevano bisogno di questo tipo di impegno e anche noi come religiose abbiamo bisogno di questo tipo di impegno la missione deve essere il nostro punto centrale lentamente cosa è successo da qui è partito il punto dell'obbedienza quando la vita religiosa è diventata un'istituzione il gruppo era piccolo e tutto era piuttosto semplice quando il gruppo di appartenenza si ampliò l'idea che i singoli potessero prendere delle decisioni venne accettata e questo questa promessa divenne un voto di obbedienza molto lentamente all'inizio no con la missione ci si riuniva si pianificava si attuava e si pregava ben ci furono però delle crisi date dalle situazioni contingenti e la situazione oggi invece è che dopo gli incontri noi andiamo a cercare i problemi con questi problemi dobbiamo essere però molto chiari dobbiamo sapere che cosa fare noi vogliamo sapere cosa fare e questo ci porta ai voti perpetui lentamente si arriva a quelli che conosciamo come voti perpetui perciò l'obbedienza al singolo in quanto in quanto voto accettato diventa obbedienza davvero un singolo altre cose da da sottolineare i superiore rappresentavano Dio quindi obbedendo al superiore si obbedisce a Dio questo tipo di definizione di obbedienza è continuata a essere accettata fino a oggi anche oggi qualunque cosa impariamo sappiamo che i superiori si aspettano che noi obbediamo qual è allora il concetto base questo è molto importante il concetto base di questo voto ob audiere da qui arriva il termine obbedienza ob audiere ob cioè per audiere cioè ascoltare quindi l'essenza del voto di obbedienza è quello di ascoltare con attenzione non c'è nulla nell'obbedienza al superiore se non l'ascolto il significato principale dell'obbedienza è dato dall'ascolto Marco 9 7 parla di trasfigurazione ascoltate mio figlio bellissimo io amo questo passaggio ascoltate mio figlio anche dai proverbi 16 20 proverbi 16 20 coloro che ascoltano con attenzione potranno prosperare ascoltare con attenzione Deuteronomio capitolo 6 4 o Israele ascolta Giovanni Vangelo di Giovanni 2 5 fate ciò che egli vi dirà se non lo volete fare ascoltate ascoltate ascoltatelo e questo è uno dei punti principali delle chiamate alla sinodalità la sinodalità significa ascoltare tutti perché altrimenti non siamo sinodali significa ascoltare il Signore che ci parla attraverso ovviamente la parola di Dio nei nostri tempi nelle nostre attività nelle decisioni capitolari tramite la presenza dei saggi che sono in grado di ascoltare Dio e di capire ciò che egli si aspetta da noi e un ex leader dei Gesuiti una volta affermato noi non possiamo dare una risposta reale ai problemi di ieri le risposte ai problemi di ieri sono diverse dai problemi di oggi perché le persone sono diverse i giovani sono diverse gli obiettivi sono diversi perciò dobbiamo riflettere su ciò che Dio si aspetta da noi oggi questo ci richiede di essere attenti alle tante modalità in cui la presenza di Dio si viene a rivelare nel mondo che ci circonda solo una parola miei cari amici e la ripeto di continuo il voto di obbedienza è per coloro che sono in grado di ascoltare il Signore in silenzio come faccio a sapere ciò che Dio mi sta dicendo questo è il problema se tutti dicono questo è ciò che Dio mi sta dicendo allora ci dobbiamo chiedere chi è questo Dio è il nostro Dio è la statua che ci piace è un Dio reale chi è questo significa che noi dobbiamo avere fedeltà ai valori evangelici così come ci vengono indirizzati da una conoscenza informata atti capitolo 23 san paolo dice al gruppo fino ad oggi io ho vissuto la mia vita con una coscienza chiara datami da Dio quanti di noi potrebbero dire lo stesso fino ad oggi io ho vissuto la mia vita con una coscienza chiara datami da Dio e lo stesso lo dice anche Pietro nella prima lettera e dice mantenete chiara la vostra coscienza miei chiari amici noi invece stiamo moltiplicando il numero di costituzioni in tutti i capitoli aumentiamo il numero di regole per ogni incontro ma non andiamo mai a sviluppare la coscienza se la coscienza non viene sviluppata moltiplicare il numero di costituzioni non sarà utile le costituzioni sono utili solo perché ha coscienza se non abbiamo coscienza possiamo scrivere quante regole vogliamo e le seguiremo in maniera pedissequa ma non sarà utile se non abbiamo coscienza questo voto ricordate il voto è molto molto poco legato al controllo e al comando per quanto invece sia legato ai leader non ha a che fare con il controllo il significato principale dell'obbenienza è legato all'ascolto dello spirito come dice papa francesco quando parla della sinodalità andiamo avanti e poi ci fermiamo per alcune domande facciamo una breve pausa per cinque minuti e poi riprenderemo si tratta allora di una chiamata da ascoltare con attenzione con attenzione non mentre sto passeggiando mentre sto guardando il cellulare ascolto no 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 con attenzione ascolto attento tanti di noi non lo sanno la nostra coscienza deve essere ben formata e ben informata una coscienza dai contorni chiari una coscienza semplice significa che chiunque ci può dire ma la tua coscienza è così no la nostra coscienza deve essere ben informata e formata parliamo di un film si tratta di un film che si chiama mission qui ci sono dei gesuiti che lavorano in america latina e lavoravano per i poveri e questo ha dato fastidio ai ricchi del posto e perciò hanno messo in discussione la loro missione per questo motivo i ricchi hanno parlato con il papa a roma e solo il padre ha allontanato i gesuiti da quel posto solo il padre ha potuto ascoltare i ricchi si tratta di un film e questo padre scrive ai gesuiti dicendo padri Gesù mi ha parlato la scorsa notte in un sogno per dirmi di dirvi di andarcene i gesuiti infine non hanno lasciato il posto il santo padre ha risposto loro perché allora non venite a roma e potremo parlarne liberamente santo padre non è dio che le ha parlato sono invece i ricchi che hanno parlato con lei noi non verremo mai via da questo posto non è un contrasto all'obbedienza perché la nostra obbedienza è nei confronti della missione ciò che non va bene è che noi lavoriamo per i valori evangelici per aiutare i poveri se questo va contro i valori evangelici ce lo dica e noi ce ne andremo subito ma voi ascoltate i ricchi a discapito dei poveri voi non state ascoltando dio perciò noi non ce ne andremo obbedire ciecamente significa abdicare alla nostra responsabilità morale lo sottolineiamo non è un'opzione praticabile questa qualcuno ci dice qualcosa io dico di sì sono molto obbediente in questo contesto no anche noi dobbiamo ascoltare e con attenzione fare ciò che ci viene detto senza operare un giudizio che si tratti della cosa giusta o sbagliata è immorale di per sé non state riflettendo non compiete il giudizio necessario qualcuno ci dice fai così e non lo facciamo non va bene perché non è morale madre Teresa nei suoi tanti anni nella sua congregazione ha ascoltato profondamente dicendo io vivo benissimo in questa congregazione le mie consorelle sono molto affettuose io non ho problemi in questa congregazione ma non è il posto giusto per me e perciò ha abbandonato l'Albania per servire i poveri Dio la stava chiamando e questa è stata una sfida e lei ha obbedito alla sua coscienza se n'è andata obbedienza alla missione i gesuiti prendono sapete un voto di obbedienza un voto speciale di obbedienza nei confronti del papa non significa dire di sì a tutto ciò che il papa propone ma significa essere pronti alla missione in qualunque posto il papa desideri che loro vadano oppure che non oppure se non vuole che vadano in posti complessi i gesuiti devono dire di sì perché questo voto li obbliga a andare in missione Gesù ha ugualmente obbedito alla sua coscienza quando gli è stata portata la donna adultera quando gli è stato detto devi lapidarla d'altra parte la sua compassione lo ha portato a trovarsi di fronte a un dilemma culturale infine ha ascoltato la propria coscienza e ha detto no io non lo farò il miglior giudizio possibile è dato dalla nostra coscienza il miglior giudizio e come ha fatto Gesù arrivare a questo punto ha cominciato a dare spazio noi non sappiamo cosa stesse scrivendo in quel momento ma ha dato spazio quando si dà spazio quando diamo spazio a queste donne adultere a queste donne silenziose creiamo apertura tutti possono farlo tutti possono decidere di non lapidare la donna adultera Gesù ha scelto di non lapidarla perché l'obbedienza significa ascoltare la propria coscienza per la missione non non c'è nulla di santo nel seguire i piani degli altri nei nostri riguardi rispetto invece a sviluppare i nostri piani e prenderci la responsabilità morale di questi attraverso dialogo e discernimento questo è ciò che dobbiamo fare io non so cosa è giusto la mia superiore non sa cosa sia giusto ma possiamo superare questo ostacolo tramite il dialogo l'ascolto reciproco ovviamente è difficile perché sarebbe più semplice dire Dio mi è apparso ieri notte e mi ha detto che dovremmo andare in questo posto ma l'obbedienza alla coscienza è un'altra cosa l'obbedienza può essere banalizzata riducendola a una questione di dipendenza e di permesso se dipendo da te tu potrai fare di me quello che vuoi io sarò sempre obbediente se ti chiedo il permesso per tutto io rimango come un bambino ti chiederò sempre sei felice di quello che faccio questa non è obbedienza è stata un'epoca allora in cui i vescovi e i leader erano formati su questo tema dicendo che erano loro a detenere la conoscenza ed essendo così gli altri dovevano obbedire si trattava di un modello militare loro dicevano andiamo e gli altri obbedivano perché perché ne sapevano di più questa era l'idea anche la cultura ha un ruolo importante in questo senso noi portiamo sulle nostre spalle la stessa cultura nelle nostre comunità religiose nelle nostre famiglie in casa ovunque ovviamente lo sappiamo anche gli altri lo sanno non dico di no quindi qualunque cosa ci dicano noi dobbiamo obbedire diamo per scontato che i superiori sappiano tutto anche i superiori pensano che noi ne sappiamo anch'io penso che i superiori sappiano tutto ma ancora una volta siccome so che i superiori penso che i superiori sappiano tutto aspettiamo che ci dicano cosa fare quando il santo padre si è recato nelle Filippine e ha tenuto messa gli è stato chiesto santo padre perché dio ha creato le prostitute perché dio ha creato le prostitute pensate che domanda il santo padre con tutta l'umiltà possibile ha risposto io non lo so solo per il fatto di essere leader non è detto che sappiamo tutto fino a ieri io non sapevo nulla ascoltavo gli altri e oggi sono stata eletta quindi da oggi so tutto da oggi dovrò comunque continuare ad ascoltare il Signore sempre ascoltare è in questo modo che abbiamo l'abilità di dire non lo so siamo in grado a quel punto di consigliare anche gli altri dicendo non lo so non lo so può essere qualcosa che tutti possiamo dire non lo so mi puoi dare del tempo per pensarci posso rifletterci questa è la più alta forma di obbedienza dire non lo so non ho tutte le risposte a tutte le domande non lo so ditelo con il passaggio del tempo la comprensione dell'obbedienza religiosa si è pian piano modificata alcuni dei seminaristi in una casa di formazione hanno avuto la richiesta di fare un po' di lavoro manuale il compito affidato a loro era quello di preparare il terreno per poter posare dei cavi elettrici sotterranei il superiore ha detto loro per favore iniziate a scavare a seguire l'intero gruppo ha obbedito e questa questione però non era stata discussa in maniera generale perciò perché il formatore aveva chiesto ai seminaristi di fare questo lavoro questo episodio purtroppo continua a ripetersi in altri in altri contesti negli anni si è visto che le persone non sempre hanno il coraggio di obbedire ma invece è necessario porre domande a un vescovo o una sacerdote ha detto ha detto a volte alle suore noi celebreremo il giubileo della nostra parrocchia abbiamo deciso che tutti i parrocchiani dovranno pagare una data somma di denaro noi abbiamo deciso così potete includerlo anche voi nel vostro percorso decisionale se noi dobbiamo se queste persone devono pagare potete inserirlo anche voi nel vostro percorso queste sono forme di diciamo di richiesta di obbedienza infatti il sacerdote ha detto voi lavorate per me perciò dovete fare quello che vi dico io le suore hanno detto no noi non lavoriamo per lei noi lavoriamo per Dio tutti devono rispettarsi reciprocamente lo scenario perciò oggi sta cambiando spesso è doloroso abbassarsi ai desideri dei leader di Roma o di altri in ego scusami ecco adesso ti riusciamo a sentire stava succedendo qualcosa credo che non ti stessimo sentendo se puoi ripetere sì dunque lo scenario davvero sta cambiando molto spesso è doloroso abbassarsi ai desideri dei leader di Roma o di altri e a volte l'obbedienza sta definita come un'obbedienza di crocifissione perché mi trovo a Roma allora invio degli ordini e gli altri obbediscono un'obbedienza di crocifissione invece noi dobbiamo ascoltare far crescere i bambini nel mondo moderno un mondo che sta sempre cambiando i bambini del passato tutti noi obbedivamo se non lo facevamo venivamo puniti oggi non è così i bambini dicono mamma perché non mi hai comprato questo perché non me l'hai chiesto i bambini vogliono che i genitori li consultino non solo nelle famiglie ma anche a scuola spesso ascoltiamo racconti oggi di tanti insegnanti che vengono feriti vengono uccisi perché alcuni insegnanti magari hanno sgridato i bambini il mondo davvero sta cambiando e noi abbiamo bisogno di riflettere ancora una volta sul voto di obbedienza anche in questo significato meraviglioso non tutto è sbagliato nel nostro mondo ma dobbiamo dare la giusta interpretazione offrirla anche agli altri diamoci allora cinque minuti se ci sono domande magari anche in chat Paola sì grazie mille Inigo per il tuo entusiasmo per quello che ci stai spiegando con tanta chiarezza prendiamoci allora cinque minuti di silenzio così che possiamo riflettere su ciò che ci è stato proposto e se qualcuno vuole inserire qualche commento o domanda in chat la chat è aperta e perciò diamoci qualche minuto di silenzio e poi potremo aprire i microfoni di consciousness diitaryan grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per noi, in questo contesto, essendo suore salvatoriane, sulla base della crisi attuale, come possiamo affidarci a Gesù Salvatore parlando come donne sinodali? Non so se vuoi rispondere. L'idea è proprio come poter credere maggiormente nelle donne sulla base di ciò che Gesù ci esprime a te. Io penso comunque che il sinodo non abbia raggiunto davvero nemmeno i sacerdoti. In tante parrocchie tanti sacerdoti non vengono per niente ascoltati e se vengono ascoltati non vengono accettati perché è molto fastidioso se promuoviamo delle idee sinodali. Il Santo Padre ci dice non monopolizziamo lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo parla tramite tutti noi, anche tramite i laboratori, anche tramite le persone che hanno abbandonato la Chiesa. Chi è in grado di poter dire di avere sempre ragione? Per la sinodalità è necessario avere tempo. La sinodalità deve potersi sviluppare coinvolgendo tutti i nuclei sociali e per questo avremo bisogno di ulteriore tempo. Non c'è altro modo. La sinodalità ci parla per poter consentirci di ascoltare lo Spirito Santo. Grazie Nigo. Siamo noi i primi che dobbiamo credere nell'ascolto dello Spirito Santo attraverso noi e attraverso gli altri. Grazie. Come insegnare questa comprensione pratica dell'obbedienza nelle case di formazione? Penso sia un'ottima domanda. Sì. Beh, noi siamo sempre impegnate ad insegnare agli altri. Cerchiamo allora di scaricare in noi questi insegnamenti. Gesù non utilizzava la testa, utilizzava il cuore. Perciò, in questo modo dovremmo comprendere nel nostro cuore il significato di questi voti. Questo significato deve arrivare al nostro cuore. Immediatamente vogliamo scrivere, vogliamo prendere la Bibbia, vogliamo insegnare agli altri. Cerchiamo invece di mostrare loro la nostra vita. Diamone testimonianza al modo in cui ascoltiamo il Signore. Lasciate che ci guardino pregare. Il modo in cui rispondiamo agli altri deve portarli a dire voglio ascoltare di più. Non sono sicuro di ciò che Dio mi sta dicendo, ma puoi dire come si fa ad ascoltare di più. Credo che gradualmente anche i giovani potranno arrivare a questa comprensione. Questa è la mia umile risposta. Grazie, Inigo. Anche questo ci è di grande aiuto, anche nei riguardi degli altri. Altre domande, commenti che riguardano il conflitto di coscienza. Quando c'è un conflitto di coscienza, come lo risolviamo e inoltre cosa intendi nel informare o formare bene una coscienza? Grazie. Parleremo della base pratica e biblica per questo, ma che consigli pratici per ora. Ci basta dire che ascoltando le domande che ci vengono poste dagli altri, potremmo sviluppare e informare la nostra coscienza. Credo che abbiamo altre due domande. Come rispettare e come vivere con le suore più anziane che ancora hanno un concetto ben diverso di coscienza? Questo a volte può portare dei conflitti. Sì, i conflitti insorgono quando si vive insieme. Ieri stavo proponendo le riflessioni sulla parola di Dio in alcune famiglie del nostro gruppo e lì stavo condividendo con loro la parola. Lo Spirito Santo si riversa sui giovani e sugli anziani, sugli uomini e sulle donne, sugli serbi uomini e donne. Questo significa che i conflitti con gli anziani sono conflitti normali che si sviluppano all'interno delle nostre culture. Ed è questa una cosa che tutti noi viviamo, ma oggi i giovani provengono a loro volta da un mondo diverso, da una cultura diversa. Siamo in grado di ascoltare anche loro? Cosa desiderano? Magari noi non siamo in grado di comprenderlo. Spesso i giovani ci dicono, nessuno ci capisce. Spesso ci dicono, noi non siamo apprezzati e oggi non solo ascoltandoli potremo comunque risolvere questi conflitti che comunque si presenteranno. Quando si vive insieme è naturale che ci siano conflitti, conflitti che portiamo fino alla tomba laddove poi terminano. Per questo motivo è necessario comprendere i giovani e gli anziani all'interno di questo mondo così complesso. Come fare? Poter andare magari in cappella, raccogliersi, pregare, capire se riusciamo a ascoltarli con umiltà. L'umiltà è fondamentale in relazione con gli altri. Grazie. Ultima domanda, se va bene per te prima di continuare. Ci hai parlato dell'obbedienza alla missione e di come questa sia incominciata. Ma a volte nelle comunità non abbiamo obbedienza alla missione, ma obbedienza in ogni aspetto della vita, come ci dicevi. Perciò, cosa intendi per obbedienza alla missione e come concentrarla davvero sulla missione e non portarla invece a tutti gli altri aspetti della nostra vita? Questa anche è una domanda su cui rifletteremo a seguire perché ancora non ne ho trattato. Benissimo, allora ti diamo la parola per continuare e sono sicura che queste risposte troveranno risposta, queste domande troveranno risposta, altrimenti ci torneremo. Bene, prego Inigo se vuoi continuare. Bene, allora, prima del Concilio Vaticano II, molti riuscivano ancora a ricordare chiaramente le memorie spiacevoli delle punizioni che coloro che venivano formati subivano. Se il superiore esprimeva un comando, non si poteva mai chiedere perché, non si poteva disobbedire né chiedere il perché. Ed è questo ciò a cui tutti noi siamo stati formati. Una volta nella mia comunità c'era una consapevolezza ecologica, piantavano, diciamo, si coltivavano delle rose meravigliose e iniziarono anche a fiorire, tutti noi eravamo felicissimi. Presto però ci si è resi conto che tutti gli animali, tutti gli insetti stavano arrivando a distruggere il roseto. La comunità allora decise di collocare una sorta di recinzione intorno per impedire almeno agli altri animali di arrivare. A quel punto si resero conto che in realtà la recinzione impediva il passaggio dal roseto verso la chiesa. A quel punto si è detto, beh, va bene, la scavalcheremo, la scavalcheremo tutti i giorni. Perciò si iniziò a scavalcare questa recinzione per arrivare in chiesa. Dopo un po' di tempo il roseto praticamente scomparve, le rose morirono. Dopo qualche anno il giardino scomparve del tutto e rimase solo la recinzione. Ma queste suore continuavano a saltare la recinzione. Nessun altro lo faceva. Loro continuavano a farlo e anche le nuove sorelle, quelle che arrivavano nella comunità, imparavano a farlo. E si chiedevano, ma perché queste suore continuano a saltare la recinzione? Lo chiedevano loro. E le suore risposero, ma noi non chiediamo mai il perché delle cose. Voi giovani arrivate qui e chiedete sempre il perché. Noi invece saltiamo e quindi saltate anche voi. Va bene, noi saltiamo, ma perché? Lo fate, ce lo potete chiedere, ce lo potete dire? No. Non chiedetecelo, non sappiamo il perché. Questa è sciocchezza. Non sapere il perché si salta è una sciocchezza. E questa è una storia che ci fa capire come l'obbedienza cieca non sia utile. Dopo qualche tempo... Dopo qualche tempo ci si è resi conto che questa forma di obbedienza nel non chiedere il perché era comunque inutile. Si dava allora per scontato che questo tipo di azioni meccaniche avrebbero instillato nelle persone una negazione dell'ego e avrebbe consentito di trovare una libertà interiore. L'obbedienza è il voto più complicato e dato che è mirata la missione, come dicevamo, abbiamo bisogno di interpretare questo voto sulla base del contesto della missione attuale. I nostri membri vengono incoraggiati a consultarsi con le nostre leadership. C'è magari una necessità e questo membro specifico pone una domanda per comprendere se la missione andrà avanti, magari per una scuola. Le suore risponderanno, ma io non lo so, ma la cosa giusta è consultarsi con i leader. Bene, se non ci va bene consultarci con i leader, possiamo parlare con un direttore spirituale all'interno di un processo di discernimento mirato alla presa di decisioni, come il cambiamento di un ministero o di un luogo. No, io lì non ci voglio andare. Questa non è obbedienza, nemmeno da parte delle suore. Non è nemmeno disobbedienza. Una volta ho inviato una lista di viaggi alla superiore generale. Una di queste suore che dovevano essere inviate all'estero ci ha detto no, noi non vogliamo andarci. Voi ci pensate come delle palline, ci lanciate dove volete e come se fossimo all'interno di un flipper. Io da qui non me ne vado. Se mi obbligate ad andarmene, io me ne andrò proprio dalla congregazione. E questo è un dilemma. Se obbedisco dovrò andarmene. Se non obbedisco dovrò andarmene proprio dalla congregazione. Questo modo di esprimersi è stato molto doloroso per noi. E allora ho pregato per due giorni, ho lasciato spazio, ho lasciato spazio. E dopo due giorni di preghiera ho scritto una lettera, una bella lettera devo dire, dicendo che potevano fare tutto perché sono membri. I leader devono avere delle capacità straordinarie per fare la differenza. Proprio perché sono stati eletti. Noi dobbiamo fare una differenza anche piccola. In ogni caso questo è ciò che ci si aspetta da noi perché siamo leader. E lei mi ha risposto ancora una volta, se volete spostarmi io me ne andrò. E dopo due giorni di preghiera ancora una volta non ho scritto immediatamente. Ma le ho detto di pensarci per due giorni. E ho scritto a lei, mia cara Mary, ho letto la tua lettera e mi ha fatto molto soffrire. Non tu mi hai fatto soffrire, ma la tua lettera, la lettera che avete scritto mi ha molto fatto soffrire. Io non sapevo che questo spostamento ti avrebbe portato a fare questa scelta così drastica di abbandonare la congregazione. Io pensavo che in quel luogo avresti potuto ben portare avanti la tua missione. Io pensavo così, ma in ogni caso c'è tempo. Abbiamo ancora un'altra settimana. Non le ho detto di non andare. Non le ho detto neanche che devi andare per forza. Ma si tratta di un dilemma per lei. Era un dilemma che si era posto anche a me. E perciò le ho detto, guarda, vieni da me. Devi essere umile. Come fai a scrivere queste parole? Se la pensiamo così non possiamo essere leader. Per sei anni avevo lavorato come leader. Sei anni. Perciò le ho chiesto di venire a trovarmi e di parlarne insieme. Vediamo cosa posso fare per te. E alla fine le ho scritto, Mary, voglio che tu sappia che io ti amo lo stesso. Io ti amo lo stesso. E perciò ho inviato la lettera. Lei ha letto ciò che le avevo scritto e automaticamente è andata dove le avevo chiesto. Non pensava che avrebbe potuto ricevere una risposta simile da parte mia. Pensava di poter ricevere parole molto più dure. Io invece le ho detto semplicemente, vieni da me e ne parleremo per capire cosa è meglio per te. E lei automaticamente è partita. Dopo sei mesi l'ho incontrata in una riunione e aveva difficoltà a guardarmi in faccia. Io non ne avevo perché non le avevo scritto nulla di doloroso. E non c'erano problemi nel incontrarci dopo qualche mese. Lei sinceramente si chiedeva perché ho scritto questa lettera. Perciò aveva difficoltà e io le ho risposto io ho voluto rompere il ghiaccio. Le ho chiesto se fosse ancora nel convento, se fosse partita. E le ho detto guarda io stavo scherzando. Tu devi avere le stesse capacità di ogni essere umano. Come puoi scrivere una lettera del genere? Pensi che io me ne sia dimenticata? Non c'è nulla di personale. Ma ti voglio chiedere però se adesso va tutto bene il tuo percorso. Sì sorella, lei mi ha risposto, va tutto benissimo. La prossima volta che vorrai spostarti, che vorrai che io mi sposti, scrivimi, fammelo sapere perché dobbiamo tenere da conto le capacità di ciascuno. La mia idea non è di punire nessuno ma nel processo è necessario creare un dialogo, un discernimento. Non scrivete lettere dicendo io me ne andrò immediatamente. E lei mi ha detto no no io non volevo ferirti. Io le ho detto non ti preoccupare io sono felice che ora hai preso questa missione e sono felice di vederti felice. Perciò è necessario a volte rallentare, pregare per qualche momento, lasciare spazio, cercare di essere umili e capire che magari questa persona era stata spostata per tante volte. Io questo non lo sapevo. Magari era già stanca di dover viaggiare. Perciò è necessario chiedere perché noi non sappiamo cosa stiano vivendo gli altri. Dopo il covid-19 dopo la pandemia le persone sono diventate molto deboli anche biologicamente. Lentamente stanno entrando in processi di depressione e non siamo noi che dobbiamo creare ulteriore depressione. Tutto sta nell'amore. Dobbiamo amarli di più. Perciò eccoci alla base biblica. Non troviamo testimonianze del Signore stesso che conduce una cerimonia di professione. Mai nella Bibbia non parliamo di professioni perpetue, ma neanche nella Chiesa iniziale, di cui l'idea delle grandi cerimonie di professione che devono essere valutate per poter rientrare nella dottrina evangelica. E questo è un impegno. Questo approccio si può davvero applicare anche ai giovani. Non dobbiamo rendere queste cerimonie delle celebrazioni, ma si tratta di impegni. Sono delle preghiere. Sono per contrastare la paura. Proprio perché mi sono impegnato, questo non significa che sarò debole. Si tratta di un'assistenza, di un sostegno costante e reciproco. Ma di questo non c'è scritto nulla nella Bibbia. Leggiamo però che Gesù non ha ordinato a Pietro, a Giovanni o a Giacomo o a chiunque altro di prostrarsi di fronte a lui e di prestare voto. Questo non fa parte del cuore della sua dottrina. Inoltre, Gesù non ha mai imposto nulla sugli altri, come invece facevano i centurioni romani. Quando dico a qualcuno di venire qui, lui lo fa. Quando dico a qualcuno di andare da una parte, lui lo fa. Gesù non ha mai fatto questo. Gesù si è accompagnato agli anziani inviati dai centurioni e anche accanto ai centurioni dice io non ho valore. L'umiltà e il servizio sono fondamentali. Ed è a questo che noi dobbiamo formare. Il voto dell'obbedienza significa che dobbiamo essere anche umili. Nessuno di noi può avere tutte le risposte. Dobbiamo rallentare, pregare, consultare qualcuno che abbia una buona guida spirituale. lavare i piedi dei discepoli. Noi seguiamo una persona che lava i piedi. Gesù si è inginocchiato e ha lavato i piedi dei discepoli. Il nostro Santo Padre di recente, il Giovedì Santo, si è inginocchiato accanto ai prigionieri che hanno stati fatti sedere ai carcerati e il Santo Padre si è inginocchiato e ha lavato loro i piedi. I leader, mie care sorelle, devono inginocchiarsi mentre gli altri devono essere fatti accomodare. Nel Vangelo di Giovanni 6.10 si legge una singola frase. Gesù dice ai discepoli fate sedere le persone sull'erba verde. Se qualcuno vi chiede di alzarsi per rivolgersi a me fateli sedere. I leader devono consentire agli altri di accomodarsi e noi dovremmo invece stare in piedi, inginocchiarci, piegarci come fa il Santo Padre. Questa umiltà non è così complessa. Io faccio quello che il mio Abba mi dice di fare. Io sono venuto a fare il volere del mio Padre. Gesù porta questo atteggiamento di obbedienza a Dio fino alla fine, all'ultimo momento. Io ho compiuto il suo volere. È questo ciò che tu vuoi che io faccia, Padre? Preghiera personale. Dal mattino presto si prega il pomeriggio, si fa una pausa, si prega di notte, si prega nella maggior parte del tempo si veniva a chiedere a Gesù è questo ciò che vuoi che io faccia? Non era necessario porsi domande come perché mi stanno facendo questo. Questo non era necessario a Gesù perché stava facendo il volere del Padre. sulla base della Bibbia il voto di obbedienza ci chiama all'umiltà, non alle suore, non ai leader, ma in maniera reciproca. Se non vado in missione gli altri soffriranno. Se dico di no per mio volere gli altri potrebbero soffrire. Considerate umilmente gli altri come più importanti di voi. Cos'è l'umiltà? Termine che deriva dal latino hummus cioè dalla terra. Noi torniamo alla terra. Io non sono migliore degli altri solo perché sono un leader. Non è così. Oggi c'è questa sindrome del io so. Io so tutto. Tutti dicono di sapere le cose. Tutti fanno ciò che la persona pensa sia giusto. Dobbiamo invece avere la stessa mente di Gesù. Qual è la mente di Gesù? L'impegno alla tenerezza, all'ascolto degli altri, ma anche l'umiltà. Umiltà. Noi siamo solo dei servi. Abbiamo solo compiuto il nostro dovere. Luca 17, 10. Noi siamo leader nominati. Facciamo il nostro dovere. E di sicuro sapremo ciò che lo Spirito Santo ci chiama a fare. Ora sulla base del Concilio Vaticano II. Prima del Concilio Vaticano II il modello più visibile nel ministero e in ciò che ci era stato affidato era un modello militare. Il Concilio Vaticano II invece porta enormi cambiamenti. Molti di noi non hanno nemmeno letto i documenti del Concilio Vaticano II. Ed è qui che il Santo Padre ci dice cosa studiamo nelle case informazioni e solo le costituzioni. Memorizziamo leggi, istruzioni, siamo pronti per la professione. Ma quanti di noi hanno studiato la Bibbia in formazione? Quanti di noi hanno studiato i documenti del Concilio Vaticano II? E ma anche i bellissimi documenti del nostro Santo Padre? Questo è ciò che significa ascoltare lo Spirito Santo sulla base dei segni dei tempi. I tempi ci guidano. La maggior parte delle comunità religiose femminili oggi raramente operano in una modalità militare. Le superiore non danno ordini ai loro sottoposti. Le suore vengono consultate per poter scegliere i propri ministeri e il luogo in cui operare. Qui questo è un rapporto, abbiamo un estratto del rapporto del sinodo, tranne che per alcuni casi quando troviamo la persistenza di uno stile di leadership autoritario che non lascia spazio al dialogo e al discernimento. Ancora una volta, vediamo dopo il rapporto del sinodo sulla sinodalità, anche adesso ci sono delle superiore che seguono uno stile di leadership autoritaria che non lascia spazio al dialogo anche se il dialogo è uno dei nostri pilastri. Perciò dobbiamo ridefinire il nostro voto di obbedienza. Ora le parole più famose le stiamo rivedendo. Quali sono? Maggiore partecipazione, ascolto reciproco, impegno a discernere la parola dello Spirito Santo, dialogo reciproco, non solo per le nostre idee, discernimento comunitario, corresponsabilità e sussidiarietà. Nuove parole che stiamo utilizzando oggi. I leader hanno potere con e non potere su altri. L'autorità gerarchica armata di un potere coercitivo è considerata necessaria per mantenere ordine all'interno del gruppo. Questo era nel passato. Potere coercitivo, ciò che mi viene detto di fare lo faccio. Gerarchica dall'alto perché così si tiene l'ordine militare ma il documento della Chiesa insiste sul fatto che la leadership si base invece sul modello del pastore, del buon pastore. Seguire anche l'ultima pecora, coloro che fanno errori, coloro che sono arroganti, vanno seguiti, riportati, presi sulle nostre spalle, portati nel nostro gruppo e poi celebrati. È estremamente difficile. Questo è il modello che la Chiesa ci chiama ad abbracciare. Questo ci dice il Santo Padre. L'elemento fondamentale di questo voto è l'ascolto e questo richiede tempo. Dio può parlare attraverso chiunque viene portato avanti in un clima di ascolto e dialogo con rispetto e sincerità si cerca insieme il volere di Dio. Ogni persona è un dono ed è immagine di Dio. Indica il non sapere tutto indica la necessità nel non prendere decisioni affrettate e infine la necessità di dedicarci del tempo di qualità. Questo è un dono. Ascolto e Amen. Perciò è necessario rallentare con attenzione, con empatia, in maniera non giudicante. Ascoltare con l'orecchio del cuore. L'ascolto richiede un'accettazione incondizionata. Questa è probabilmente la parte più complessa perché ciascuno pensa di aver ragione e ciascuno vuole provare di aver ragione. Invece è necessaria l'accettazione. Ancora una volta il rapporto del sinodo dice che la chiesa ha bisogno di ascoltare con attenzione particolare e sensibilità particolare le voci delle vittime dei sopravvissuti degli abusi sessuali, spirituali, economici, istituzionali, di potere e di coscienza operati dal clero e dai religiosi. L'ascolto autentico è un elemento fondamentale del percorso di cura, di pentimento, di giustizia e riconciliazione. Infine allora quello che ci viene detto è sono stata ascoltata, sono stata chiamata, ho ricevuto spazio, sono stata consultata, ho avuto due o tre opzioni da cui scegliere e alla fine ho potuto scegliere. A questo punto ho potuto prendere una decisione informata per comprendere cosa la mia superiore maggiore così umile stava facendo e questo mi ha portato a essere umile a mia volta. Dio sceglie di parlare attraverso chiunque e dice che un leader ha sempre ragione. I farisei hanno rifiutato di ascoltare se andate a leggere il Vangelo di Giovanni vedete che i farisei chiedono state cercando di insegnarci qualcosa e invece cercano di non di non ascoltare. Noi abbiamo una stella che ci guida abbiamo qualcuno anche una superiore maggiore tutti noi dovremmo avere una guida spirituale tutti voi dovreste avere qualcuno a cui raccontare le cose se non vanno bene a cui raccontare le cose se vanno bene non è necessario avere qualcuno che ci dica ciò che è giusto o sbagliato ma che ci consigli la vita religiosa è radicalmente egalitaria non ci sono figli non ci sono superiorità sulla base dell'età o ineguaglianze ecclesiastiche sulla base del documento del concilio Vaticano II il battesimo è il sacramento fondamentale tutti noi siamo abituati a pensare all'ordinazione ma è il battesimo che ci rende tutti uguali tutti formati allo Spirito Santo perciò tutti devono poter essere ascoltati l'obbedienza non significa ascoltare in modo passivo di ricevere un comando o un comando da un superiore legittimo ma invece una ricerca dinamica di ciò che può far piacere glorificare il Signore pensate allora alcuni passaggi della Bibbia in cui leggiamo fate ciò che fa piacere al Signore magari non lo sappiamo ma in silenzio o attraverso l'ascolto della parola di Dio o chiedendo consiglio agli esperti con umiltà possiamo trovare tanti modi per glorificarlo e anche questo è il voto di obbedienza il mondo secolare si è allontanato dalla struttura feudale dei signori e delle famiglie nobili servite dai loro vassalli oggi il tipo di governo in atto è la democrazia monarchia ed oligarchia sono diventati fatti del passato l'autorità oggi significa servizio servizio alla missione l'obbedienza è mirata alla missione eccoci al concetto principale se andiamo a leggere vediamo che la missione e l'obbedienza sono due elementi complementari ed inseparabili nella vita di Cristo tramite l'azione dello Spirito Santo che all'origine di ogni vocazione e carisma la vita consacrata stessa è una missione così come l'è stata l'intera vita di Dio di Gesù perciò noi siamo pensati per la missione la nostra comunità è pensata per la missione che ci deve aiutare a pregare meglio il nostro studio è pensato per la missione le nostre vacanze sono per la missione tutto è mirato alla missione la missione il regno di Dio deve essere compiuto sia i leader sia chi è sottoposto devono obbedire tutti devono poter obbedire sono passati i giorni in cui il superiore era l'unico in grado esercitare l'autorità di prendere decisione mentre i sottoposti erano coloro che obbedivano si conformavano la figura del superiore non è mai stata veramente abolita ma solo lo stile di governance o di leadership è cambiato tutti i membri della comunità compresi i leader ma i membri devono obbedire questo tipo di obbedienza è orientata primariamente verso l'obbedienza alla missione del Signore il problema dei leader ci dice Papa Francesco non è una semplice testardagine ma una durezza del cuore hanno si sono chiusi in loro stessi e si sono rifiutati di dialogare con gli altri o ascoltare gli altri noi non sappiamo ascoltare siamo in grado solo di dare ordini anche i bambini di oggi mettono in discussione ciò che dicono gli adulti e viceversa ed è qualcosa che ci deve spaventare la tragedia dei leader è la incapacità di ascoltare i leader non sanno come sia non sanno come si ascolti la voce del Signore e non sanno come dialogare con gli altri e nemmeno con Dio e questo ce lo dice il Santo Padre noi dobbiamo dedicarci del tempo il tempo che ci viene dato oggi o domani è pensato proprio per questo io devo sedermi e pensare solo con una breve definizione sedersi e ascoltare è davvero questo ciò che mi chiede il Signore o è ciò che fa piacere a me sono testardo per caso anche i leader devono imparare noi siamo eterni studenti per il fatto semplice di essere un leader non significa che smetto di studiare anch'io devo ascoltare diventare studente imparare ascoltando la coscienza ascoltando la parola di Dio quanti di noi ascoltano la Bibbia se se ci poniamo questa domanda dobbiamo capire che non sempre siamo formati a questo dobbiamo ascoltare i saggi dobbiamo ascoltare le decisioni capitolari non deviamo da ciò che ci dice il capitolo perché altrimenti non saremo in grado di portare avanti la missione diventiamo dei co significa portatori di collaborazione cooperazione e corresponsabilità non più clericalisti ma sinodali tutto va in direzione della cooperazione niente più obbedisco niente più so tutto niente più non ho esperienza per niente più non ho visto è Dio che ci parla attraverso i giovani gli anziani se noi siamo aperti allo spirito con umiltà umiltà perciò discernimento discernimento significa non solo ciò che è il lavoro dei superiori ma il lavoro di tutti sedersi insieme e discernere un bellissimo esempio di discernimento un esempio classico proviene dal capitolo 6 degli atti come organizzare un incontro come arrivare alle conclusioni cosa fare punto primo riconoscere l'esistenza di un problema sottolinearlo qual è il problema noi siamo comunità cristiane e ci dobbiamo porre un problema anche linguistico la donna ebrea di cui i discepoli si prendevano cura non parlava la loro lingua ma loro erano in grado di comunicare con lei è importante definire i problemi esistenti quindi punto primo qual è il problema poi hanno loro hanno chiamato tutti e questo lo leggiamo negli atti hanno convocato tutti quando c'è un problema cerchiamo di consultare tutti non ci sono segreti deve esserci invece trasparenza tutti coloro che sono coinvolti da questo problema devono sapere di cosa si sta discutendo hanno continuato a pregare e hanno distribuito i compiti e il potere a varie persone hanno continuato a pregare dicendo non dicendo piuttosto io ho sempre ragione non ho mai compiuto errori ma rallentando pregando in questo caso andiamo a differenziare l'animazione dall'amministrazione la buona parte dei leader sa di essere amministratori sa di essere manager responsabili dei funzionari persone di affari sempre meno tempo si dedica all'animazione alla facilitazione invece dobbiamo suddividere questi campi i nostri stessi doveri riguardano anche l'animazione degli altri ed è importante avere tempo per questo e infine ciò che dissero contentò tutti accontentato tutti con queste parole termina questo passaggio la questione venne risolta in maniera amichevole attraverso un processo di dialogo senza che nessuno avesse il desiderio di prevalere quindi infine io non devo dire beh insomma alla fine quello che volevo io era giusto no è un'idea sbagliata quello che volevo può essere qualcosa di giusto ma infine chi è che ha prevalso questo non è il problema questo non è il problema siamo tutti noi che abbiamo prevalso abbiamo preso una decisione magari abbiamo fallito o siamo riusciti a risolvere il problema è una questione collettiva non c'è più un io un me è un noi insieme tutti quanti devono partecipare allora chiediamoci con onestà quanto è facile per me come leader ascoltare gli altri quando i miei membri esprimono delle idee diverse dalle mie anche i leader a volte non vengono formati in questo senso devono essere formati per essere leader sono testardo e rigido nel mio modo di fare o invece credo nella pratica del discernimento e del dialogo dico come risposta abbiamo sempre fatto così e quindi siamo sempre riusciti a risolvere problemi io ho più esperienza può darsi ma non oggi bisogna ascoltare gli altri quali sono le sfide le donne stanno mettendo in discussione il patriarcato sostituiscono allora i termini quali docilità niente più docilità e sottomissione no queste parole non le usiamo più sono datate utilizziamo invece parole come maturità ascolto ascolto reciproco interdipendenza dialogo e responsabilità che sono alcune delle parole chiave del mondo attuale alcune parole vanno a sostituire altre e sono parole molto pesanti alcune vanno davvero cambiate alcune parole non andrebbero proprio più riutilizzate punto 2 obbedienza partecipativa l'obbedienza cieca sta praticamente scomparendo dai gruppi religiosi uno stile militare di leadership pensato per ordinare viene allontanato ed è un fatto che alcuni membri subiscono momenti di depressione acuta quando pensano di subire ingiustizie il concilio vaticano secondo ha proposto di considerare questo voto in maniera diversa tante consorelle tante sorelle ci dicono io non vengo ascoltata non vengo presa sul serio nessuno mi dice mai una bella parola una parola di affetto per questo motivo i leader non devono mai far piangere gli altri non è che perché sono leader posso permettermi questi abusi io devo accettare tutti quindi mi raccomando fate sì che le vostre consorelle siano sempre felici aprite con loro un dialogo anche a rischio di avere meno tempo a disposizione dovete avere sempre tempo per ascoltare i vostri membri e incontrarli perché amplierete il loro rapporto con voi con amore augere è un atto di potere se i leader utilizzano la propria autorità per il beneficio e il miglioramento allora andremo a tradire l'autorità se facciamo qualcosa come leader non dobbiamo farlo per il nostro beneficio perché questo significa tradire l'autorità invece dobbiamo dare strumenti agli altri noi abbiamo un meraviglioso presidente in India ed è stato un presidente bravissimo aveva un autista e questo autista un giorno a questo autista un giorno ha chiesto tu quanto hai studiato ma fino veramente a un minimo diploma e allora il presidente gli ha detto beh allora registrati e continua a studiare e lui davvero si è registrato e ha continuato a studiare dopo un po' di tempo il presidente ha capito che non voleva continuare a vedere questo autista fare sempre questo lavoro voleva cambiare la sua vita e perciò gli chiese perché allora non ti registri a un programma di scuola superiore e l'autista lo ha fatto perché era un segno veramente politico e ancora una volta gli ha chiesto poi di potersi laureare e questo autista lo ha fatto e si è laureato e il presidente gli ha detto adesso ti registreremo per il tuo dottorato un autista pensate tutte le spese che ho sostenuto non provengono dal governo ma io ho pagato queste spese per te personalmente ho pagato per le tue spese di formazione perciò registrati questo autista è diventato dottore di economia e ora è un docente in una delle università dell'India Meridionale un autista è diventato professore universitario questo significa avere leadership essendo leader questo presidente è stato in grado di rendere un autista un docente universitario fate sì che le vostre sorelle si sentano bene come lo ha fatto quest'autista essere un leader significa esercitare potere sicuramente non possiamo dire come leader di esercitare un potere coercitivo dobbiamo invece avere un ufficio in quanto leader siamo in grado anche di avere un'autorità di amicizia e purtroppo tutto viene reso gerarchico nella vita religiosa ascoltate la frase successiva negare rifiutare di partecipare ai processi di discernimento congregazionale comunitario rifiutarsi di ascoltare gli altri significa tradire l'obbedienza non rifiutatevi di partecipare dicendo ma io so tutto se non partecipate a questi processi di discernimento che vada tutto questo va contro il voto di obbedienza la monarca che invece viene definita come la concentrazione dei tre poteri legislativo esecutivo e giudiziario nelle mani di una singola persona e va ad esercitare l'autorità senza tenere da conto nessuno questo è il pericolo che corriamo sapete noi possiamo dire sempre di non sapere tutto anche i consulenti possono dirlo noi non vogliamo questo tipo di leader non vogliamo persone che dicano io so tutto il nostro non è un modello monarchico e neppure dittatoriale no non ci piacciono questi modelli quindi i leader devono rifiutare questi modelli qual è il nostro modello oggi guardate lo schermo passaggio di Giovanni 15 noi abbiamo bisogno di un modello di amicizia una condivisione della saggezza di Dio della familiarità alcuni consigli pratici punto primo imparare dal modello familiare c'è sempre qualcosa che possiamo adottare oggi i genitori non usano più il bastone non usano più la cinghia e dobbiamo invece pensare ai genitori attuali anche nei paesi in via di sviluppo non è più così anche la famiglia è cambiata ha cambiato funzione sono in grado di ascoltare a volte hanno persino paura dei propri bambini è necessario comprendere anche la non la paura ma la filosofia dei bambini nei gruppi religiosi deve essere data attenzione alla possibilità di comunare efficacemente ed è possibile che gli altri compiano tanti errori e questo è normale non possiamo pensare di punirli o di rivolgerci a loro con cattive parole perché pensate a quante persone esterne si stanno avvicinando alla vita religiosa non è semplice accoglierli ma dobbiamo farlo molto spesso quello che ci aiuta è migliorare la nostra comprensione di ciò che è andato male e chiedere alle persone di proporre soluzioni per dire ma se tu fossi al posto mio tu che soluzione proporresti quindi ancora una volta è facile punire gli altri se non fanno ciò che vogliamo ma oggi il voto di obbedienza ci richiede di far comprendere agli altri la condivisione delle informazioni è fondamentale tutti devono avere la libertà di esprimere liberamente le proprie opinioni e la generazione attuale vuole essere informata su ciò che avviene con trasparenza il processo decisionale non deve avvenire dall'alto ma tramite la partecipazione di tutti si tratta di un modello nuovo oggi non facciamo qualcosa non lo faremo neanche domani ma non dovete essere delusi è un modello di decisione graduale è un modello che ha ispirato anche Gesù e che lui ispira tutti noi in cui vogliamo sapere le opinioni degli altri a quel punto potremmo arrivare a delle conclusioni alla presa di decisioni la necessità di sviluppare fiducia i leader sono come il buon pastore il buon samaritano perché sono pronti a prendersi cura di qualunque possibile ferita incontrino l'antico modello del superiore con il consenso del consiglio che semplicemente scrive una dura lettera una suora per farla trasferire da un luogo all'altro dal giorno alla notte priva di rispetto le persone questo non è più considerato obbedienza rispetto per la persona con il consenso della persona potremmo portare avanti la missione altrimenti se obblighiamo la persona a partire lei non comprenderà il significato della missione non farà nulla quindi per il bene della missione bisogna considerare questi punti superiori e maggiori devono avere delle consultazioni aperte sui posti da assegnare sui compiti da assegnare questo a volte può risultare complesso e un approccio poco considerato poco attento può portare a conseguenze anche tragiche ovviamente non si tratta di un compito che risolviamo in un giorno no dobbiamo rallentare rallentare comprendere la persona magari comprendere le loro ferite dobbiamo far sì che le persone si fidino di noi si fidino di noi dobbiamo accettarle amarle in maniera incondizionata capire che stanno portando avanti la loro missione anche i leader sono responsabili senza una trasparenza aperta delle informazioni e l'impegno di tutti i membri della comunità nessun leader può affermare di essere un rappresentante responsabile della propria comunità ancora abbiamo molta strada da fare per seguire i passi del nostro maestro che è arrivato da noi non per essere servito ma per servire per concludere un approccio più gentile da parte dei leader congregazionali delle ragioni reali da parte dei singoli devono essere sempre rispettate non dobbiamo ignorare ciò che gli altri ci chiedono ma dobbiamo pensare alle ragioni reali un modo di fare saccente e testardo da parte del superiore può creare problemi anche personali all'interno della gestione dei membri un esempio un vescovo una volta mi ha chiamato al telefono e mi ha detto ti prego sposta trasferisci questa suora e io ho chiesto ma eminenza perché la dovrei spostare vado a interferire su qualche processo e lui io ho posto questa domanda con molta gentilezza non sono stata arrogante però sono stata assertiva l'arroganza è diversa dall'essere assertive nelle nostre motivazioni perché no perché arriverà lì un sacerdote e c'è stato uno scandalo un vescovo allora se è così la dovrò spostare dovrò dirglielo no assolutamente la sposti e basta no attenzione io andrò da lei ci parlerò questi sono i luoghi in cui ci dobbiamo dirigere anche se dovremmo viaggiare non possiamo imporre un ordine senza comprendere realmente la situazione nessuno ha portato da me questa suora e infine io ho detto a questo vescovo sai eminenza dovremmo probabilmente spostarla ma lui mi ha risposto il motivo di questo spostamento è legato al rapporto tra il sacerdote che arriverà e questa suora questo sacerdote aveva detto al vescovo che sarebbe arrivato lì e tuttavia era stato vittima di uno scandalo sessuale il vescovo ha insistito nel chiedermi di trasferire questa suora e io ho chiesto a lui di trasferire il sacerdote perché altrimenti la mia consorella non mi avrebbe mai perdonata io ho una responsabilità per le mie consorelle ovunque loro vadano le mie consorelle si fidano di me io non posso tradirle devo rispettarle perciò il rispetto è fondamentale per concludere allora oggi viviamo in un universo in costante evoluzione in costante crescita tutto sta cambiando compreso il clima ovviamente il clima è solo un esempio ma tutto sta cambiando non possiamo più affidarci al passato per poter individuare le linee guida necessarie per la nostra vita attuale non c'è una copia a carbone a cui poterci affidare non c'è nulla che possiamo copiare dal passato tutto è nuovo io voglio fare tutto nuovo nuovi problemi nuove questioni nuove risposte da scoprire non chiediamoci semplicemente cosa fare sapete che generalmente questo è inteso come voto di obbedienza ma nella leadership dobbiamo capire quali sono le necessità le problematiche delle nostre consorelle e con quanta cura ce ne vogliamo occupare questa chiamata ci richiede profonda responsabilità e riflessione ascoltiamo allora lo spirito che ci parla ogni giorno attraverso gli eventi attraverso gli altri e la natura con grande rispetto domande allora di riflessione un paio di domande la monarchia e l'oligarchia sono diventati fatti del passato ma quale grado di democrazia viene esercitato oggi nelle strutture religiose non consiste forse la nostra leadership nel continuare a operare in tanti luoghi ancora in maniera gerarchica dall'alto verso il basso questa è una riflessione che dobbiamo portare avanti seconda domanda come esprimereste voi l'essenza di questo voto in un modo che sia in grado di riflettere la nostra nuova realtà noi dobbiamo scrivere nuove definizioni di questi voti perché i nostri tempi sono diversi i nostri ragazzi sono diversi i nostri candidati sono diversi i documenti che sviluppiamo sono diversi perciò dobbiamo cambiare le nostre idee il nostro carattere dobbiamo dare nuove definizioni grazie mille ho finito precisamente sì grazie grazie mille Inigo ti chiedo se puoi lasciare sullo schermo la penultima slide grazie grazie mille so che siamo in tempo prendiamoci allora un paio di momenti per le nostre consorelle per consentire loro di riflettere su queste domande e poi penso che se va bene possiamo dedicarci 4-5 minuti di domande o commenti che sono emersi dalla chat va bene grazie 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 un paio di commenti e domande che sono emersi dalla chat dovremmo cambiare il nostro modo di lavorare come superiore generale lei che ne pensa beh in tanti luoghi già abbiamo fatto dei cambiamenti parliamo di team congregazionali o di leadership provinciali sicuramente però il cambiamento è ancora necessario dipende da noi non contano le parole possiamo cambiare le parole ma possiamo essere sempre dei leader militari quello che conta è il cambiamento di atteggiamento da parte nostra io posso essere un modello nella mia famiglia ma posso anche non cambiare se sono una madre rimango sempre una madre ma una madre può essere anche un'amica e un meraviglioso compagno quindi siate amiche delle vostre consorelle grazie mille grazie nico tu hai parlato del ruolo dei leader rispetto al voto di obbedienza ma anche in un diciamo in un mondo attuale la domanda è come vivere questo voto di obbedienza tra pari dato che siamo tutti leader non solo in comunità ma come promuovere questo aspetto per aprire un maggiore dialogo quando magari non c'è un vero ruolo di leader ma comunque noi dobbiamo ascoltare gli altri sì sono perfettamente d'accordo c'è il pericolo quando prendiamo i voti di obbedienza di castità e di povertà di andare avanti all'infinito alla fine arrivare all'obbedienza perciò per me in realtà questo conflitto arriva proprio tra pari con gli altri non continuiamo a parlare in questo senso c'è ovviamente un conflitto ma non non iniziamo nulla di nuovo per risolverlo ma bisogna riflettere con tranquillità dobbiamo fermarci questa è anche la mia esperienza perché io sono stata eletta superiore generale da giovane e io davvero ho vissuto inginocchiata sapendo di non sapere e ho capito che quello che stava avvenendo non erano dei veri miracoli ma ho capito di avere un'ispirazione dall'alto e a questo punto sono stata in grado sono stata pronta ad ascoltare è importante capire come ascoltare perché non diamo risposte ma dobbiamo poter ascoltare per quanto possibile facciamo parlare gli altri quando gli altri finiscono di parlare dicendo beh io non ho più nulla da dire allora iniziamo noi a parlare nel percorso anche quando penso di avere qualcosa da dire rimango comunque in silenzio la formazione in questo senso è ancora più importante per noi di quanto non lo sia per gli altri grazie tu come agiresti quando ci sono livelli di maturità differenti e quando pensi che ci sia una mancanza di fiducia per non entrare diciamo a gamba tesa a risolvere queste questioni puoi ripetere una suora ci chiede anche a livello comunitario ci sono vari livelli di maturità quando magari ci sono persone che badano solo al proprio interesse non a quello degli altri come si promuove l'obbedienza e il dialogo in questi contesti ma pensateci sia una risposta immediata che vi posso dare no ovviamente non lo so come ha detto il santo padre non lo so è una cosa estremamente difficile non ho detto che sarà facile ovviamente ma quanto più promuoviamo il dialogo discerniamo tutti insieme potremo promuovere il discernimento anche individuale in questo senso siamo dei supereroi legati a Dio nel nostro agire non perché dovremmo cambiare non perché sappiamo tutto ma sapendo che alcune cose non cambieranno le accetteremo perché non cambieranno perché questa è la base di riferimento è così che sono sempre andate le cose ma sapendo che determinate cose non cambieranno noi le accettiamo se aspettiamo che alcune cose cambino perderemo la nostra missione perderemo la nostra vita per alcune cose che abbiamo vissuto quando ci raccogliamo in solitudine riflettiamo e ci raccogliamo ma quando usciamo quando andiamo verso gli altri sorridiamo dobbiamo sorridere bene Inigo dobbiamo terminare grazie grazie mille davvero non vediamo allora di continuare il nostro incontro domani quando parleremo nella stessa maniera della castità e della povertà grazie mille davvero da tutti i commenti che vedo nella chat e che puoi vedere anche tu ci sono tante parole di ringraziamento ci sono state moltissime suare insieme a noi oggi che ti hanno ascoltato e questo significa e mostra davvero quanto sia importante questa realtà e quanto davvero sia importante affrontare queste spede insieme vorrei sottolineare un paio di parole che tu hai detto una è ascolto un'altra è discernimento un'altra ancora è libertà questo ci porta ad avere un'unione con il Signore a ciò che il Signore ci chiama a fare oggi a essere cioè pastori nel mondo non possiamo vivere senza l'assistenza degli altri ed è questo che significa sinodalità cercare di percepire ascoltare obbedire a ciò che Dio ci sta dicendo in tanti modi e tramite tante realtà diverse la mediazione di tante realtà diverse quindi vi invito tutti voi a rileggere la presentazione di oggi ve la invierò di nuovo è stata molto densa molto importante bella non abbiamo la possibilità di assimilare tutto ora quindi davvero vi incoraggerei a rileggerla e a rifletterci non a metterla su uno scaffale come ha detto Inigo partecipiamo a tanti incontri e alla fine questi non ci trasformano invece ora vorrei davvero invitarvi a accoglierla come una sfida personale è semplice dire ma io sono un leader sono una persona di responsabilità e poi non portare avanti i cambiamenti è in noi che dobbiamo portare un cambiamento Inigo a te l'ultima parola per domani una bellissima conclusione davvero sapendo allora che queste persone non abbracceranno per forza il nostro modo di fare sapendo che il nostro non è per forza il modo corretto di fare le cose ma dobbiamo sapere che nessuno ci ha obbligati a fare qualcosa senza il nostro permesso noi abbiamo bisogno di ancora più preghiera abbiamo ancora più bisogno di grazie magari gli altri hanno bisogno ancora di più grazie rispetto a me io già ne ho ricevuta quindi voglio pregare il Signore perché possa dare agli altri la stessa grazia che ha dato a me ed è in questo modo che possiamo accettarli grazie mille Suor Paola grazie a ciascuno di voi che mi ha ascoltata oggi siete stati i miei benefattori di oggi grazie a voi ho potuto parlare quindi grazie davvero che Dio vi benedica e ci vediamo domani grazie mille Enigo chiedo a tutti di aprire il microfono e ci vediamo domani grazie 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 mille è stato bellissimo bye bye ciao grazie anche io ho il coraggio di andare avanti grazie 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 a tutti.